Grazie. E quindi si pone l'esigenza, gli indigeni pongono l'esigenza di tutelare questo mondo naturale. Siamo rimasti in pochi, ma forse è il momento più singolare della giornata, perché arriviamo a parlare di una religione che è nata recentemente. Ce ne parla Giancarlo Galli, che è calafato pegais, cardinale e membro del concistoro della Chiesa pastafariana. Io stesso non so cosa vogliono dire gran parte di queste espressioni ed è per questo che ce lo dovrà esporre lui. È sicuro che quello che sentirete sarà strano, sarà per alcuni aspetti ironico, beffardo, ma quello che conta è che pone un problema di fondo su cui vi prego comunque di riflettere, la questione della libertà religiosa. Qual è il limite? Qual è il confine? Se possiamo ignorare questo problema o se ce lo dobbiamo porre? Perché loro pongono questo problema in un modo tutto particolare, ma pongono questo problema che è un problema serio, è un problema grave ed è il problema che ha dato origine, tra l'altro, vi esorto a considerare questo, che ha dato origine ai diritti in Occidente e dalla tolleranza religiosa che gradualmente sono emersi tutti gli altri diritti e la tutela dei diritti. Quindi, ripeto, saranno forse cose molto singolari, bizzarre, ma che pongono problemi in serie profonde. Quindi per questo do la parola, per spiegarci tutto questo, a Giancarlo Gatti. Ah, sa, sa, prova. Allora, innanzitutto grazie che ci siete ancora perché vi garantisco che è stata lunga. In secondo luogo, grazie al professore Herrera, perché quest'oggi ho scoperto delle cose interessanti. E per ultimo, e da ultimo, adesso vi racconterò una strana storia. Allora, la rivelazione al mondo della religione più antica mai esistita, e poi lo capirete perché, si fa dai più risalire al 2005, ma l'origine del pastafarianesimo, avete voglia. In quell'anno, il Kansas State Board of Education, responsabile dell'approvazione dei curricula scolastici, stava discutendo di autorizzare il disegno intelligente come insegnamento, assieme alla teoria di Darwin. Il disegno intelligente, per capirsi, è una cosa che va molto di moda negli Stati Uniti, sapete dei fondamentalisti che in questo momento stanno supportando la grande Trump, no? La tesi del creazionismo sostanzialmente sostiene che il mondo è stato creato da Dio, quelli veramente intransigenti arrivano a dire che i dinosauri c'erano insieme ai cavernicoli, eccetera. Un ragazzino di 25 anni scrive un documento per indirizzare questa lettera aperta, che per noi è un po' come le tesi di Worms per Lutero. Citando quindi lo stesso pluralismo concettuale del Board of Education, che insieme metteva due cose che tra di loro non possono andare d'accordo, da un lato l'evoluzione, dall'altro l'idea di un disegno intelligente con un creatore, dice che esisteva, secondo lui, una terza teoria della creazione che si chiamava Flying Spaghetti Monster, il mostro volante di spaghetti. Il Flying Spaghetti Monster è un prodigioso spaghetti volante o PSV, come lo chiamiamo noi, è un dio che si presenta sotto forma di un gigantesco agglomerato di pasta con polpette, spaghetti and meatballs per capirci, e Anderson lo descrive come un demiurgo che ha creato l'universo in quattro giorni, dopo una notte di ubriachezza causata dall'aver bevuto troppe birre per poi riposarsi tre giorni, il che spiega l'evidente imperfezione del risultato. Questa intuizione, sicuramente ispirata dal prodigioso, si trattava dello stesso concetto epistemologico di cui si avvaleva il comitato, che metteva insieme due cose che tra di loro non possono stare in piedi. E quindi, in questo modo, però, lui superava la contraddizione del credo qui absurdum di Tertulliano, andava oltre a Kierkegaard, in quanto la sua fede non era più paradosso e scandalo, ma addirittura pacifica convivenza, e questo è veramente grossa, tra scienza e religione, che come voi sapete non sono mai potuto andare d'accordo. Infatti, pensate al DNA, poca roba, quattro cosettine, adenina, timina, guanina, citosina, le mettite insieme e non succede mai niente, ma pensate anche alla splendida semplicità dello spaghetto crudo, che si modifica col calore e diventa tutta un'altra cosa. E cos'è c'era nel Big Bang? C'era una valangata di miliardi e di miliardi di gradi centigradi, e più che bastanti a far bollire tutto l'universo, ed ecco che infatti il nostro DNA assomiglia a un fusillo. Nella famosa lettera, Henderson scrive, è considerato una mancanza di rispetto insegnare alle nostre convinzioni senza indossare il suo abito prescelto, che naturalmente è un abbigliamento completo da pirata. I pirati sono il popolo eletto. I seguaci di Darwin tentano di dimostrare, con una gran fatica, che noi abbiamo il 95% del DNA che assomiglia a quello degli scimpanzei, ma con i pirati abbiamo il 99-99 periodico in comune. Se poi pensiamo all'importanza dei pirati, basta vedere questa fantastica correlazione, per cui il riscaldamento globale, terremoti, rogani, eccetera, sono andati aumentando enormemente, man mano che diminuiva il numero dei pirati. Quindi esiste una correlazione diretta tra pirati e temperatura globale. Dimostrazione dell'esistenza di Dio, ma niente di più semplice. Abbiamo detto che un Dio burlone, che si è ubriacato, ha fatto tutto quanto in fretta. Scusate, ma quale Dio, se non un Dio un po' ciucchettone, avrebbe creato stranezze tipo l'ornitorinchio, scusate, l'ornitorinchio, il kiwi, troppo pigro per volare, o gli orribili pinguini senza ali, braccia, incapaci di mangiare niente, se non il krill, che schifo. La chiesa del prodigioso Spaghetti Volante quindi oppone solidissime prove empiriche, dell'esistenza del prodigioso, dell'essere supremo. Oltre, quindi, alle classiche dimostrazioni ontologiche, se qualcuno di voi ha la pazienza di leggere il libro sacro dello Spaghetti Volante, troverà dimostrazioni che hanno a che fare con la matematica, l'antropologia culturale, fisica, addirittura, scienze manageriali. In una delle sue rarissime teofanie, se qualcuno poi voglia di leggerli tutti, purtroppo per risparmiare carta non ne ho stampati troppi, però abbiamo qua anche qualche coppia completa, il prodigioso ha detto a Mosei, che qualcuno continua a sostenere, che si chiamasse Mosei, un decalogo che è alla base della nostra religione, ma essendo lui anche, appunto, perfettibile. Ne fate cadere due di queste tavole, quindi ne abbiamo soltanto otto. Ve ne citerò due. Sono strane, non sono comandamenti, noi li chiamiamo condimenti. Infatti dice, per favore, non usatemi per opprimere, soggiogare, scannare e come modo per maltrattare gli altri. Ci siamo, capiti? Non vogliamo sacrifici e l'acqua deve essere pura, non le persone. Oppure il settimo, che dice, per favore, non andate in giro dicendo che vi ho parlato. Credete veramente che valga la pena che mi scomodi per voi? Non siate presuntosi. Io vi ho detto d'amarvi l'un l'altro. Avete capito adesso? Allora, i condimenti pastafariani non impongono norme, ma invitano comportamenti importati al rispetto, alla logica, al pluralismo, senza pretendere nulla in termini di verità. Si potrebbe pensare che quindi nel pastafarianismo ci sia tantissimo al di qua, è poco al di là, ma non fraintendete. Non è laicismo, non è nemmeno una forma moderna di epicureismo. L'uomo pastafariano ha in comune, sì, con l'uomo d'epicuro la ricerca della felicità, la tarassia, ma pur riconoscendo in una ciurma di liberi ed uguali valori, ruoli e funzioni, il pastafariano ammisce, sì, come epicuro all'autonomia, all'autarchia, no? Ma non vuole stare fuori dalla polis, anzi, ci entra dentro con tutti i mani e piedi. Il pirata, la società, la conquista, la vuole, la plasma, portando all'interno della società il principio della condivisione, del rispetto, dell'uguaglianza, rivendicando uguaglianza e fratellazza tra le persone, qualunque siano le differenze, qualunque siano le religioni e qualunque sia soprattutto l'essere supremo. È l'estensione dell'idea di Anderson. Creazionismo? Va bene. Darminismo? Va bene. Ma a questo punto va bene anche altro. Non ci sono più primazie, superiorità, come è mirabilmente definito nei nostri condimenti. Da pirati non abbiamo paura di nessuno. Chiunque si converte al pastafarianismo, siamo modernissimi, siamo ritornati, da nessuno a vent'anni, chiunque si converta ha trenta giorni di prova, così dice il profeta. Se non gli garba, noi gli restituiamo l'anima e la sua religione o all'ateismo o quel cavolo che vuole esattamente come l'aveva. e nessuno può ambire al titolo di pirata pastafariano prima di raggiungere la maggiore età. Allora, abbiamo parlato un sacco di mangiare. Voi direte, vabbè, siete una religione che si chiama prodigioso spaghetto volante, chissà che scorpacciate di carbonare o cose simili. Mi tolgo il cappello per motivi di calore. Comunque, non sto più parlando direttamente né del profeta né del prodigioso. Allora, se i pirati sono giustamente visti come arrembatori di navigli, nemici, non è l'ingordigia del loro a guidare ma il bisogno di confrontarsi con le idee bigotte, termine che utilizza il profeta, armati del giustissimo rispetto e di curiosità verso la pluralità delle idee, dei sentimenti e dei comportamenti degli altri. Se si deve parlare di ingordigia è del buon cibo, del buon bere, del condividere un atteggiamento d'apertura verso tutti, compresi i colleghi di altre religioni. Anzi, se dopo volete, tutti quanti da qualche parte qui vicino troveremo pure un posto dove poter pregare insieme davanti a una buona birra. Nessun dogma cantano sull'aria di cucini, sembrano i pirati, guidati da un stano scetticismo verso l'indimostrabile perché è una delle cose che mi ha fatto molto ridere quest'oggi, che si davano per scontati tutta una serie di faccende che erano molto logiche finché parlavamo di terreno, ma quando ci si incollava sopra l'ultraterreno non vedevo il collegame. Quindi l'indimostrabile lasciamolo dov'è e invece sì, gioioso rispetto per il creatore, quello sì, distratto com'è, non ha fatto un gran capolavoro, però sicuramente c'è, siamo qua, e quindi è capace anche di farci scherzetti, nel libro ne sono raccontati parecchi. Da quanto sopradetto discende il gusto, quasi la necessità di condividere l'agape, il banchetto comunitario, inteso etimologicamente come comunione di amore, la caritas, nel vero senso etimologico, la sacra, abbruffata di amici innamorati gli uni degli altri, niente a che vedere con quello che quest'oggi è andato e venuto, che è la teofagia, che è presente in molte religioni, teofagia, da teos fagein, mangiare il Dio, è un rituale religioso che è presente in tantissime forme, in tantissime religioni, quelle più primitive come atto fisico, ha parlato prima la mia correlatrice di quasi di che abbuffate di grigliate di grigliate si facevano i greci approfittando del fatto che facevano i sacrifici. Ma ad esempio c'è l'intichiuma che è tutelata in Australia che è tra gli aborigini in cui mangiano gli animali totemici, il canguro e le mu, in questo caso. I riti di dionisiaci ne abbiamo parlato prima di cibele, i culti mitraici, addirittura a mitra mischiava pane e vino e diceva che erano il corpo e il sangue del Dio, no? I baccanali, l'equivalente dei riculti dionisiaci per i romani che nel 186 a.C. hanno visto una bella legge contro i rave party romani a base di vino, rock and roll e sesso. Tutto il mondo è paese. Lasciamo perdere un sacco di altri elementi che legano il cibo alla religione di cui oggi non abbiamo parlato ma che secondo me sono interessanti. Ad esempio il Ramadan, la quaresima, no? Giù giù fino ai dolci per commemorare i morti oppure se visto che siamo in Emilia le tortellate per San Giovanni le ritualità connesse con i santi la raccolta dei frutti la preparazione del cibo il cibo è sacro ma lo è davvero quasi tutti quest'oggi l'hanno ricordato come facciamo noi da pasta fariani non considerarlo tale. Abbiamo però esattamente come per le altre religioni esistono quindi tabù alimentari che molto spesso sono semplici normi igienico-sanitarie a quest'oggi ci hanno raccontato del cos'è cascere che cos'è ma signori mangiare il maiale in Arabia vuol dire più portarsi a casa un problema probabilmente perché fu un po' troppo caldo per cui io lo vieterei senza bisogno di scomodare nessuna divinità ah senza contare che comunque da queste parti signori i contadini hanno imparato a fare delle cose fantastiche inventandoci i prosciutti più fantastici o addirittura il culatello che sia l'ode prodigioso per questo allora fondamenta della nostra religione è mangiare e bere insieme nel libro si citano sì la comunione pastafariana quindi spaghetti con le polpette che sono l'immagine prodigioso addirittura c'è un'ottima dimostrazione di tipo scientifico in cui si dimostra che l'apporto calorico di un piatto di meatball spaghetti è sicuramente superiore quella della classica ostia cristiana ma le nostre frequentissime teglie di preghiera sono tenuti in tutta Italia e con tutti i cibi noi li chiamiamo raduni ci vedono in bandiere grandi tavolate con serissime discussioni di politica cultura e religione poi vedrete che è vero ricorrenze come l'aglio win o il birragosto vedono decine di pirati che condividono la gioia di essere chiesa seriamente nell'etimo vero ecclesia assemblea popolare fin da quando ci siamo costituiti nel 2012 da parte del nostro primo pastefice alzarcawi saluto il nostro attuale pastefice che è seduto qua in prima che è malmostoso primo di un eroico manipolo di pirati che noi chiamiamo fondutori la miglior chiesa che possa trovarsi oggi sul mercato ha adottato il principio non il dogma i dogma non sappiamo cosa sono della transustanziazione del tortellino a riprova che è un cibo sacro come ben sapevano i nostri antenati abbiamo anche i nostri bravi tabù certo abbiamo detto che c'è spazio per l'ultraterreno certamente l'aldilà è un luogo di beatitudine in cui c'è un vulcano che rutta birra infiniteratamente ci sono tutte le delizie una fabbrica che fornisce spogliare liste e spogliare listi a seconda degli orientamenti per ogni tipo di parti ma a questo punto qua cosa somiglia all'inferno il profeta dice che è un luogo piuttosto freddo dove il vulcano erutta birra si maestantia gli striptease sono complicati dalla necessità di togliere un sacco di vestiti forse è l'antartide con i suoi vulcani ghiacciati e come unici abitanti gli orribili pinguini così come altre religioni abbiamo un topo alimentare il pastafariano che si rispetta richiede sedendosi al ristorante se il locale sia penguin free e se non fosse cortesemente esce seppur a male in cuore addirittura abbiamo la nostra birra certificata vedete penguin free se ogni cibo è sacro così come l'amore ha infinite ricette anche il cibo ha milioni di componenti che nel corpo si scindono ci nutrono dell'essenza stessa del prodigioso carboidrati proteine grassi alcoli eccetera eccetera e con chi mangi e non cosa mangi che conti la comunione è sacra in quanto condivisione del cibo forse e qua facciamo un po' di etnologia ma la spensierata pantofagia l'abbiamo chiamata così pastafariana affondo le sue radici nell'idea contadina e quindi pagana del mondo alla rovescia che aveva descritto il cocchiara forse consciamente noi pastafariami condividiamo quell'etica rovesciata del carnevale cioè la carne in valere e quindi siamo gli eredi coscienti di gargantois e di long john silver il mondo desiderato è un mondo in cui le convinzioni si ribaltano i poveri hanno più cibito dei ricchi l'ha detto qualcosa del genere anche qualcun altro recentemente ma lasciamo perdere hanno detto che mangiano meglio gli alberi delle navi sono comunque i pali della cuccagna e fino a provo contare tutti sono felici in pace attorno a pantaglueici banchetti qui i preti possono essere giustamente presi per il sedere e l'ordine e il disordine sono in realtà facce della stessa medaglia ma allora scusate perché una religione è non un bel ateismo libertario e frecchettone per due motivi uno seriamente teologico l'altro molto seriamente politico siccome l'esistenza di un dio si basa su postulati indimostrabili è più logico amare perché adorare è comunque una parola un po' grossa un dio della cui esistenza abbiamo prova solo nel nostro essere imperfetti nel nostro desiderio di amarci e della cui esistenza siamo fermamente convinti proprio grazie alla sua postulata indimostrabilità un dio così è tanto credibile quanto a uno che avrebbe dato i suoi precetti a dei pastori nomadi nel primo millennio avanti Cristo o dalle parti della Palestina o gli abitanti dell'India del XIII secolo avanti Cristo o dell'Arabia del VII secolo dopo Cristo loro hanno più anzianità di servizio sono forse per questo più bravi o più fighi di noi non lo so non è forse altrettanto postulabile un dio pasticcione fatto di carboidrati un dio di un dio unetrino magari un dio permaloso punitivo un dio primus interpare in mezzo a tanti altri magari con la proboscide un sacco di braccia o un dio serpente piumato che vuole i sacrifici umani o un dio panico spirito della natura in fin dei conti perché il terzo sasso di una nana gialla in un braccio laterale di una galassia minore eccentrica rispetto al superammassio di laniachea composta a sua volta da centinaia di migliaia di galassie dovrebbe essere proprio oggetto di questo pantocratore che a questo punto ci porrebbe così tanta attenzione noi sappiamo che mai un ministro del culto pastafariano prenderà un infante e lo tempererà col sigillo della nostra religione mai un pastafariano dirà no tu no perché sei diverso ma nessun pastafariano mai oppresso ucciso abusato per qualcun altro perché ha un dio che non è uguale al nostro il pastafarianismo è la vera religione di questi anni 2000 in quanto sazia da un lato il bisogno di ritualità di cui parlava anche Pasquale o più recentemente François Desmet che il rito è carburante della fede il prodigioso da una risposta logica alla sete di dio connaturata all'uomo rimettendo però la religione che è tutta un'altra faccenda al suo posto la religione è una questione personale non è un'istituzione siamo certi che in un mondo invaso da pirati dio qualunque aspetto egli abbia non può fare altro che trovarsi bene e sorridere perché noi crediamo nei prodigiosi spaghetti volanti perché piccoli imperfetti caseroni bizzarri noi vogliamo che la sua verità invada questo terzo sasso nel braccio laterale di una galassia nell'ammasso di l'agnachea e perché questo universo è assurdo bene è proprio la dimostrazione che lui esiste ma fin qui abbiamo parlato di fede noi abbiamo però qualcosa in più il piacere del paradosso il sano dubbio su tutto che arriva anche a prevedere l'abbandono della fede in presenza di prove sull'inesistenza del prodigioso ci fanno spesso ritenere una parodia di altre religioni sono stato personalmente testimone di furibonde battaglie su wikipedia italia dove c'era quello orribile parodistico nello spiegone sul pastafarianesimo ma alla fine anche i censori digitali hanno dovuto ammettere che per prefasare graucio marx no carletto si presenta come una chiesa agisce come una chiesa ma non fatevi ingannare è davvero una chiesa il pastafarianesimo come testimoniano innumerevoli incisioni rupestre di cui ne vedete una sotto falsamente interpretate da degli indiana jones della domenica come immagini di culti solari in realtà precede qualunque altra religione tantissime citazioni nella bibbia dagli titi agli egizi parlano della birra che per noi è bevanda sacra in altri culti ci sono le nostre ricorrenze ad esempio il ramen dan è diventato poi per qualcuno il ramen dan ma lo stanno tutti i pastafariani passavano mesi lunghi giorni addirittura mangiando quando erano all'università soltanto ramen o la pasta col tonno quello era il vero ramen dan o la quaresima costretti a sopravvivere evitando l'acqua bevendo soltanto alcolici per 40 giorni quasi tutte le religioni hanno preso da noi basti pensare ad esempio che il nostro ramen che tutti sanno essere uno spaghetto è stato corrotto in amen quando tutti sanno che gli spaghetti sono conosciuti in Asia da molto tempo prima dell'avvento dell'era cristiana la pasta reneofobia è un male antichissimo al punto di aver cancellato nella cultura dominante da ogni traccia della più antica e primigenia religione e qua diventa un attimo serio perché in realtà è vero noi abbiamo qua alcuni esempi di nostri confratelli che in tutto il mondo civilizzato vogliono riconosciuta la possibilità di avere nei documenti una foto identificativa con il sacro copercapo il piratesco tricorno il più pratico scola pasta ad esempio al pari della kippa o dell'isabo o del turbante Nico Alm politico e attivista austriaco fu il primo nel 2011 ad ottenere legalmente la foto sulla patente con il cola pasta addirittura in Russia un confratello ha ottenuto la patente peccato che questo signore qua perché è pastafariano e non per un altro motivo in questo momento sta scontando un anno e sei mesi e dieci milioni di rubli di multa per aver diffuso notizie false secondo loro e un'altra nostra consorella si è bruciata viva come facevano ai bei tempi i bonzi vi ricordate con la guerra del Vietnam di fronte al ministero della cultura Bruder Spaghetti è in lotta con il lender di Brandeburgo perché gli lasciano esporre il diritto di mettere la nostra noodle masse assieme alle più convenzionali messe luterane e o cattoliche in molte nazioni il pastafarianesimo è stato riconosciuto Nuova Zelanda Polonia e Olanda lo riconoscono con specifiche diverse a seconda dei vari ordinamenti nazionali tornando di nuovo a Marx stavolta a Graucio siamo una chiesa a tutti gli effetti e infatti noi stiamo intraprendendo un faticoso percorso per il riconoscimento da parte dello Stato italiano italiano la chiesa pastafariane italiana è ricostituita e riconosciuta come ente morale di culto e intende farsi riconoscere come chiesa proprio come tutte le altre chiese che non giudichiamo ma amiamo come consorelle magari un po' obsolete ma non concorrenti noi abbiamo riti e preghiere codificate abbiamo uno statuto responsabili del trattamento dei dati sensibili organi di controllo e di amministrazione teniamo il registro dei fedeli e del clero nel clero si accede soltanto dopo serissimi corsi per ministri di culto con esami rilascio di certificazioni lento morale di culto chiesa pastafariana agisce sia nell'ambito sociale che in quello spirale spirituale scusate in modo spensieratamente serissimo questo qua sotto è il nostro liscafisso che è il simbolo della nostra religione siamo come tutti se poi quando quando buiviamo la birra ve lo spieghiamo anche perché è fatto così siamo come tutte le altre religioni né più né meno siamo tolleranti ci vanno benissimo il crocefisso nelle aule nelle scuole nei tribunali o meglio vogliamo la nostra immagine sacra presente compare dignità a tutte le altre ci piace tantissimo l'insegnamento delle religioni ovunque ci vanno bene anche i cappellani militari a patto che da bravi pirati insegnano ai soldati anche l'uso dell'arma bianca o a caricare la spingarda con il proprio organismo secolare l'associazione di promozione sociale pastafariana che noi chiamiamo familiarmente la ciurma la chiesa pastafariana italiana interviene dove ci sia bisogno di spirito critico ed esempi concretamente ironici citiamo qui ad esempio le eroiche tagliatelle in piedi che arrembano mangiando in piedi anziché comodamente seduti in curanti del pericolo pantagrueici piatti di pasta in difesa della famiglia tradizionale pastafariana membri della comunità pastafariana sono andati in Grecia a Lesbo come volontari al campo di concentramento per i chiedenti asilo della Turchia mentre tramite la nostra azione caotica abbiamo portato abbiamo fatto una grande raccolta di indumenti per i cosiddetti clandestini soprattutto a Como quando c'è stato quel periodo in cui c'era un simpatico sindaco leghista che bruciava il sacchiapeolo di questi poveri disgraziati oppure sul confine italiano per quelli che arrivavano dalla rotta balcanica la chiesa collabora con l'associazione Luca Coscioni in supporto delle loro istanze sul fine vita sia con la presenza fattiva della ciurma nelle manifestazioni davanti ai tribunali sia praticamente anche con la pubblicazione del fumetto Liberi verso il vulcano adesso sapete cosa significa a cura della chiesa stessa a cui ricavato è andato integralmente l'associazione Coscioni aderiamo al comitato anti-blasphemy laws con il motto Dio scotto visto che il prodigioso non si offende per nulla se lo si nomina sia in vano che di proposito al punto di organizzare una mostra di opere blasfeme di celebre artisti contemporanei sotto legge del comune di Napoli contestatissima e indovinate sempre da chi addirittura partecipiamo a un convegno su religione e cibo all'università di Palma ma questo è proprio il colmo grazie allora come avete visto è una provocazione è una provocazione ironica ma è una provocazione che contiene degli elementi estremamente sedi come avete visto ci sono state persone che per difendere la libertà di una religione sia pure una religione inventata è una religione bizzarra come questa questo lo dice lui lo dico io ha rischiato la vita e a volte ha perso la vita ora il fatto stesso che ci sia bisogno di perdere la vita per difendere la libertà religiosa vuol dire che anche una provocazione come questa vale la pena di essere ascoltata perché ci esorta a ricordare la bellezza della libertà di cui godiamo e che valga la pena non perderla questo non vuol dire ovviamente che la chiesa safariana si sostituirà alle altre chiese vuol dire che pongono un problema che è un problema serio in modo ironico ma è un problema serio quello che mi chiedo è dove si troverà il parmigiano volante per lo spaghetto volante ma questa è un'altra storia ringrazio tutti per essere stati finora con noi e buona serata a tutti grazie 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 grazie